La società acquedottistica Terramana della Ruzzoreti lancia un nuovo servizio di messaggistica che avvisa l'utente l'eventuale bolletta scaduta e non ancora pagata. Questo permetterà al titolare della fornitura di ricevere sul proprio cellulare un sms e una mail da Ruzzoreti con l'importo dell'ultima fattura non pagata e l'invito ad effettuare il pagamento entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione. Fa parte del sistema di innovazione dell'ufficio clienti che appunto stiamo portando avanti. Questo messaggio consentirà a chi per svista non è riuscito a pagare la bolletta di averne una notifica in tempo reale. Inoltre cliccando sul messaggio si apre direttamente una pagina con la bolletta quindi si può verificare la bolletta stessa e si può pagare direttamente online. Questo secondo me è molto comodo e si evitano appunto le sanzioni di mora e si evita che magari si accumulino bollette non pagate e gli importi poi arrivino anche a cifre particolarmente elevate. Quindi cliccando sul link presente del testo del messaggio sarà inoltre possibile conoscere i dettagli della fattura, scaricare la bolletta in formato pdf e pagarla tramite QR code grazie all'avviso di pagamento di Pagopà. Questo comunque è un servizio che era stato chiesto un po' dagli utenti di implementare? Sì, ovviamente ci sono servizi pubblici come l'Enel che lo fanno già da moltissimo tempo. Noi siamo un po' più piccolini, abbiamo impiegato un po' di più però finalmente anche noi ci siamo adeguati. Il servizio è completamente gratuito, l'utente non paga nulla a differenza dei costi e suo carico per la spedizione della raccomandata che la Ruzzoreti ha inviato finora in caso di mancato pagamento. Se il pagamento viene effettuato entro i termini indicati, il servizio evita all'utente l'avvio di procedure previste dall'autorità a Rera che comportano l'addebito di ulteriori costi, quelli già citati per la spedizione della raccomandata per il sollecito di pagamento e i costi di sospensione e riattivazione della fornitura. Grazie. Grazie.